C'è stato un lento e progressivo calo dei contagi questa settimana con il covid che ha fatto registrare negli ultimi giorni i casi in diminuzione in regione fino ai 504 di oggi dove però la netta diminuzione rispetto all'inizio della settimana è anche da mettersi in correlazione alla minore attività sanitario-amministrativa del weekend. Sono stati eseguiti infatti 816 tamponi molecolari e 3063 test antigenici con il tasso di positività comunque in calo rispetto ai giorni scorsi al 12,99%. Nel report regionale di oggi si registra invece un deceduto, in particolare una 87enne con il numero delle vittime da inizio emergenza che sale a 3709. Basso anche il numero dei guariti 84 e anche in questo caso bisogna tener conto della valutazione della minore attività negli ospedali. Risultano così in crescita gli attualmente positivi complessivamente 15.185,419 in più nelle ultime 24 ore. In particolare di questi 162 risultano ricoverati in area medica, numero invariato rispetto a ieri e 7 in terapia intensiva, meno 1. I nuovi positivi di oggi sono residenti nelle province dell'Aquila 107, Chieti 133, Pescara 142 e Teramo 118.